Torna la terza edizione della regata Danunziana, evento di apertura della Danunziana Week, sostenuta, voluta e ideata dal Presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri, idea che noi come circolo, come armatori, come amanti della vela e del mare, e ovviamente sensibilizzati in tal modo non abbiamo potuto far altro che cercare nel migliore dei modi di organizzare un evento che si contraddistinguerà sicuramente anche in ambito nazionale. Avremo questa bellissima manifestazione che coinvolgerà tante imbarcazioni, dovremmo essere veramente tanti in mare, la partenza sarà alle 11.30 davanti alla nave di Cascella, abbastanza vicina a costa, quindi anche la cittadinanza potrà godere di questo spettacolo. Andremo prima in direzione nord, fino alla zona di Santa Filomena, ripasseremo di nuovo dalla nave di Cascella e avremo l'arrivo davanti alla stere di Danunzio, visto che la regata è a lui intitolata, quindi per restare in tema l'arrivo lo faremo in quella zona. Siamo contenti di organizzazione, ci aspettiamo una bellissima giornata di vela, di divertimento, di sport, in onore del nostro Danunzio.